Domani potrebbe essere un giorno decisivo per il futuro della Unilever di Pozzilli. Al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma è infatti previsto l'incontro con i vertici dell'azienda. Sarà l'occasione per capire una volta per tutte quali sono le reali intenzioni della multinazionale. Il vertice è stato annunciato dalla sottosegretaria del Movimento 5 Stelle, Alessandra Todde, delegata alla soluzione di questa vertenza. L'esponente del Governo incontrerà i rappresentanti della Unilever con l'obiettivo di avere notizie certe sul futuro dello stabilimento di Pozzilli e di delineare azioni concrete per il rilancio. Subito dopo sarà convocato un nuovo incontro per la presentazione del piano di rilancio alla presenza di tutte le parti coinvolte in questa vertenza. In tempi brevi, ha confermato la Todde, riconvocheremo le parti al Ministero in modo da strutturare concretamente un percorso condiviso. Il Mise ha dimostrato di lavorare al fianco delle imprese e dei lavoratori, cercando di trovare, giorno dopo giorno, soluzioni a problemi che hanno radici molto profonde. L'attenzione è alta, ha concluso il sottosegretario, e mi impegno ad ascoltare le parti e a trovare soluzioni concrete. Non lasceremo soli né i lavoratori né l'azienda. In attesa di novità dal Ministero, la preoccupazione resta alta tra i lavoratori molisani. Anche se hanno deciso di bloccare lo sciopero e di tornare al lavoro, questa per loro è solo una tregua. Se dal Mise non dovessero arrivare risposte chiare, la protesta riprenderà, se possibile, più forte di prima.